Bene, benvenuto in questo nuovo video, io sono Samuel Magistro e chi mi segue da diverso tempo, in particolar modo chi mi segue sui social, saprà bene che la scorsa settimana non sono riuscito a pubblicare il solito video del venerdì pomeriggio. Per fortuna o per sfortuna, direi assolutamente per fortuna, causa forza maggiore, causa troppo lavoro, non sono riuscito a fermarmi qui nel mio magazzino, nel magazzino dove lavoro, dopo appunto l'orario lavorativo per poter produrre contenuti video, tutorial, recensioni e quant'altro. Ho in programma diverse recensioni ma non sono riuscito, ho finito davvero troppo tardi. Detto questo però anche se la scorsa settimana non sono riuscito a produrre video, la vita andava avanti comunque, le spedizioni, gli arrivi sono andati avanti comunque e infatti qui è arrivato un po' di materiale. In questo video che alcuni potrebbero definire video tappabuchi, io non voglio chiamarlo tappabuchi perché lo vorrei più definire un vlog, infatti vado a raccontarvi un po' quello che tendenzialmente non vi racconterei mai in un intero video. Infatti quando ad esempio ho realizzato il banco da lavoro vi avevo detto che vi avrei magari aggiornato come procedeva ma non aveva senso mostrarvi come costruire una mensola, del resto non c'è nulla di particolare nel costruire una mensola. Piuttosto però in questo video posso andare ad aggiornarvi su come appunto sta procedendo il banco da lavoro. Come potete vedere qui molto grezzo c'è del trucciolare, molto grezzo ma come vi ho già sempre detto l'importante è che sia funzionale. Come del resto anche il cassetto risulta essere molto grezzo, anche la mensola in USB ma come già detto l'importante è che sia funzionale e direi che è assolutamente funzionale. Qui sopra ho messo il saldatore, il multimetro, alimentatore, l'idea è di aggiungere qui ulteriori strumentazioni che mi serviranno appunto per lavorare nel campo dell'elettronica ma direi che comunque a questo punto dato che l'aggiornamento per così dire è fatto non mi resta che iniziare a mostrarvi questi nuovi prodotti che sono arrivati e lascio poi decidere a voi quale sarà eventualmente il prodotto da recensire per primo soprattutto se poi vi interessano ad esempio qua si parla di Raspberry piuttosto che di tastiera, mini tastiera per Raspberry, qui dentro c'è un endoscopio che adesso andiamo ad aprire insieme, beh ripeto avvicino la telecamera vi faccio vedere tutto da più vicino e lascio poi decidere a voi quali saranno i prodotti da eventualmente recensire. Bene avvicinata quindi la telecamera direi che riusciamo tranquillamente a vedere tutti i vari prodottini, partirei subito quindi da questa action cam in 4k, prodottini che mi arrivano sempre per poter provare e fare recensioni anche se poi in realtà magari non vi produco contenuti video perché come avete visto ultimamente mi sto dedicando ad altro anche se in realtà mi piacerebbe poter tornare a parlarvi di questi prodotti beh naturalmente come vi ho detto prima fatemi sapere sotto nei commenti se vi potrebbero interessare questo tipo di video così magari vi porto nuovi contenuti ad esempio recensioni di prodotti high tech. Qui c'è questa secondo me fantastica action cam in 4k, dico secondo me è fantastica perché in realtà ancora non l'ho provata, ho avuto solo modo di vederne altre recensioni su Amazon, naturalmente vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione. Ripeto 4k, ha il display touch, in questo momento è ancora chiusa ma io naturalmente l'ho già aperta e l'ho già provata, questo display qui è un display touch ed ancora come avete visto all'interno c'è un notevole assortimento di accessori, in particolar modo secondo me questa è la parte più carina del telecomando che ci permette di scattare foto e far partire i video, anche se devo informarmi bene su questa roba qui se è subacquea perché una vecchia action cam che avevo provato era dichiarato che era appunto subacqueo ma in realtà non lo ero, non lo era scusate. Vado quindi a guardarmi tutto quanto e soprattutto vado a provarmi bene le varie applicazioni per poter vedere in diretta in wifi sullo smartphone ecco. Qua parla di un 4k a 30 fps, beh la proverò e magari vi faccio sapere, ripeto fatemi sapere se vi può interessare un video o semplicemente vi aggiorno tramite la pagina facebook. Vado a spostare tutti questi accessori per andare a mostrarvi subito altri prodotti high tech. Ah ecco molto carina non mi ero accorto, ci sono due batterie all'interno del kit, molto interessante. Questa la vediamo dopo perché va in abbinato a questo sistemino qui. Spero, penso che molti di voi conoscono già questo prodotto, Raspberry P3 è in sostanza una scheda dimensione carta di credito per intenderci che ci permette di lavorare, è in sostanza un mini computer, quindi per chi non lo sapesse vado a fare una descrizione molto generale. Come vedete questa è dimensione carta di credito, in sostanza è un mini computer, come potete vedere ci sono 4 porte USB, connessione di rete, cuffie HDMI e alimentazione con micro USB. Poi qua ci sono tutta una serie di pin ed ancora uno slot per poter connettere ulteriori strumenti. Qui invece c'è la slot per inserire l'SD che adesso vedremo essere fornita all'interno. In sostanza che cos'è la Raspberry P3 o comunque che cos'è la Raspberry? È una scheda che potremmo paragonare ad Arduino se non fosse che è molto più performante, più intelligente per così dire, perché all'interno ha un vero e proprio CPU che appunto ci permette di rendere Raspberry un vero e proprio computer. Infatti all'interno possiamo andare, vediamo se c'è scritto già qui, no, purtroppo no, si può andare ad installare sistemi operativi Linux piuttosto che Windows, anche se Windows non gira come potremmo immaginare, come il classico computer di casa, però riusciamo comunque a fare prototipi molto ma molto interessanti, ad esempio nel campo della domotica. O molto più semplicemente si può connettere alla TV per costruire quello che in gergo si definisce Smart Box TV, in sostanza andare a collegare, a installare, scusate, tutta una serie di applicazioni che ci permettono di guardare prodotti tipo Netflix o altro direttamente sulla nostra TV se non abbiamo appunto una Smart TV, quindi una TV recente. Ed ancora si può andare a costruire degli arcade box, quindi utilizzare questa schedina come emulatore per tutti i classici giochi da bar anni 80-90. All'interno della scatola viene fornito anche questo box che ci permette di contenere la Raspberry all'interno appunto di questa slot in modo tale appunto da proteggere l'elettronica che risulta essere un po' grezza. E all'interno c'è ancora l'alimentatore con il suo tastino di accensione e spegnimento perché naturalmente il Raspberry non ha un tasto a bordo della scheda stessa. Come potete già vedere non c'è memoria, non c'è un hard disk in questa macchina ma il tutto viene fatto direttamente dall'SD dove appunto viene caricato il sistema operativo. All'interno della scatola viene fornito anche la scheda SD e questo adattatore che ci permette appunto di connettere la nostra scheda SD al computer dove andremo a scaricare il sistema operativo. Quindi diciamo che per il primo avvio dello strumento è necessario utilizzare un altro computer e poi giustamente una volta connessa ad internet si può lavorare tranquillamente da lì. Qui vengono forniti anche due dissipatori che vengono montati sulla parte superiore e inferiore della nostra Raspberry. Per poter utilizzare la Raspberry con un computer come potete immaginare basta semplicemente con il cavo HDMI collegare la scheda add un monitor e poi sarà necessario utilizzare una periferica di input come ad esempio questa mini tastiera, eccola qua, come vedete davvero mini, dove qui sopra c'è il mouse e poi tutta la serie di tasti QWERTY naturalmente di una tastiera. E secondo me è comodissima, io ne ho tre o quattro di queste qua perché qui sopra ci sono anche tutta la serie di tasti utili nel campo della TV quindi nel momento in cui si decide di utilizzare la Raspberry come Smartbox TV possiamo alzare e abbassare il volume e andare avanti e indietro con le tracce e quant'altro. Il mouse risponde davvero egregiamente. Ripeto, se vi interessa posso eventualmente farvi poi una rapida recensione. spostata questa roba qui andiamo a vedere questo che è secondo me una delle parti più interessanti nel campo del fai da te perché sono dei prodottini economici che però ci permettono di fare lavori che a volte richiederebbero un professionista. Mi viene ad esempio in mente, non lo so io, nel campo idraulico se qualcosa dovesse finire all'interno del tubo siamo magari costretti a chiamare un idraulico che ci spacca il muro e va a individuare qual è il problema. prima di dover chiamare un idraulico si può ad esempio iniziare ad intervenire con prodottini di questo tipo, vi lascio il link qui sotto in descrizione, così da andare a vedere che cosa c'è all'interno del nostro tubo di scarico e capire se eventualmente può bastare un disgorgante. Naturalmente questo è solo un esempio, piuttosto che se qualcosa è finito all'interno dello scarico con le pinzette fornite in dotazione possiamo andare a recuperarlo noi senza ripeto dover chiamare un idraulico. Naturalmente vi sottolineo che non vi sto dicendo di improvvisarvi idraulici, se qualcosa non dovesse andare a volte è sicuramente meglio chiamare un professionista. Detto questo secondo me è comunque un prodottino carino da poter tenere nel laboratorio soprattutto se siamo degli appassionati di fai da te perché in pochissimo tempo basta collegare questa scatoletta tramite wifi al nostro smartphone o tablet e riusciremo a vedere con questa fantastica microcamera. Come potete vedere è davvero molto piccola, indicativamente è un centimetro di diametro e ci sono ben 5 metri di cavo. Bene eccoci arrivati quindi alla fine di questo video, mi rendo conto essere un video un po' diverso dal solito, forse qualcuno davvero potrebbe definirlo un video tappabuchi, eventualmente chiamiamolo anche così ma in sostanza ci tenevo a non sparire drasticamente per due settimane anche perché il lavoro ripeto ancora chiama tra corso sulla sicurezza, corso antincendio e quant'altro sto facendo davvero le ore piccole. In particolar modo chi mi segue su Instagram avrà visto che la scorsa settimana tra saldatura a cannello, elettrodo e quant'altro ho fatto le ore davvero piccole. Ho provato a saldare a cannello magari anche lì fatemi sapere se può interessarvi in un futuro video oltre ai vari video sulla saldatura classica quindi filo, elettrodo, tig e quant'altro se eventualmente parlare anche di ossi acetilenica ovvero fiamma ossidrica, quella che in gergo viene chiamata fiamma ossidrica. Detto questo ripeto io sono arrivato quasi a concludere questo video però ci tengo a farvi sapere che ho voluto fare questo piccolo aggiornamento perché molti di voi purtroppo non mi seguono ad esempio su Instagram dove di solito il contatto è molto più rapido e quindi volevo fargli sapere che non sono sparito da YouTube bensì semplicemente sono un po' nelle curve ma tornerò a pieno regime con i video. Detto questo fatemi sapere nei commenti se questo tipo di recensioni vi possono ancora interessare dico ancora perché tempo fa circa un annetto fa o anche forse due ero partito su YouTube facendo recensioni di prodotti high tech action cam radio e quant'altro fatemi sapere se vi può interessare nuovamente questo tipo di video. Vi ricordo ancora di seguirmi su Facebook e ancora sulla mia pagina Instagram, di lasciare un like a questo video anche se mi rendo conto forse non essere meritatissimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!